Il test di Sepanga di novembre dove abbiamo potuto rivalutare e comparare le stesse parti in due circuiti diversi, prima Valencia e poi in Malesia. Lì abbiamo lavorato con calma, abbiamo provato tantissime cose e alla fine abbiamo deciso le basi delle moto con le quali Vale e Maverick inizieranno a girare in Malesia tra qualche giorno. L'obiettivo è quello di riuscire prima a tornare ad essere costante e competitivo su tutti i circuiti e poi chiaramente la gestione della gomma, specialmente quella posteriore.